Buongiorno e buon pomeriggio, cari amici, visto che per un bel po' di tempo abbiamo condiviso tanto, molto materiale video, diciamo che da oggi fino a quando poi mi sento di nuovo di riproporre un bel po' di materiale, riprendiamo con la linea un video al D, un video al giorno e nel video di oggi parliamo di calcio Coppa Italia, le primissime fasi della Coppa Italia 2021, ieri si è disputata, credo, allo stadio San Nicola di Bari, Bari tra Stevere e calcio, i galletti biancorossi hanno vinto per 4 a 0, il risultato è già in cassaforte nei primi 45 minuti, con i gol di Dursi, Marras e Andenucci, poi nella ripresa Candellone ha siglato il il Pogger al 75esimo, per quanto riguarda le sostituzioni per i padroni di casa Ciofani, Candellone, Scavone, Simeri, gli ospiti Barbarosso, Lorusso, Rissima, Deddu, Sabelli espulso per doppia munizione, BAE, altra sostituzione. Quindi ora il Bari attende mercoledì della settimana prossima, quindi il 30 settembre, la SPAL, in casa della SPAL, che dire, viva lo sport, il calcio, forza Bari, noi ci vediamo quindi domani con un nuovo video, grazie a tutti di nuovo, buon proseguimento di giornata, vista l'ora, buon pranzo, lo sapete il mio canale è ricco, vi potete sbizzarrire, a domani, al nuovo video, ciao!